Ciao a tutti ragazzi, io sono Carly e questa ovviamente è la nostra amatissima cimbia E questo è Affe Benvenuti in questo nuovissimo video Oggi la cucina propone qualcosa di nuovo Mi sono resa conto, intanto bevo il mio succhino Che Amazon e Shane sono due mondi a cui tutte le persone dell'universo hanno accesso Il punto è che le persone a cui hanno accesso a questi due mondi fanno delle recensioni strane Io inizierei con dei bellissimi specchi rotondi E voi direte, cosa c'è di male in uno specchio rotondo? Nulla, ma ti fa vedere la tua bellezza interiore Storpiandoti la faccia e facendoti diventare un orco Che Shrek ti fa concorrenza E devo dire, a sinistra abbiamo un poverissimo gatto con un cappello tacchino E a destra abbiamo il cliente che ha comprato il cappello tacchino Se posso essere a destra sta meglio il gatto, mi sa Più che il cane Perché? Perché mettere a un povero Carlino sto vestito? Gli sta malissimo Sembra un salame Però gli sembra fiero di ciò che sta indossando Quindi va bene così Perché questa persona mi ricorda una torta di zucca Con sta parrucca lancione Orrenda Orrenda Ma chi è che si metterebbe mai una cosa del genere? A lui sta decisamente meglio Effettivamente se posso sì Sembrano i suoi Se non fosse per questa riga così netta qua Sembrerebbero anche i suoi Un proprietario di un cane dovrebbe pensare Sì Questo cappello banana potrebbe stare bene al mio cane Guarda la faccia tirata che c'ha Si è fatto il lifting per mettersi questo cappello banana Comunque è bellissimo Poi così pendente Che sembra un cappello da mago Non è un mago che è preso sul serio Perché è un cappello banana, capito? E giustamente Dopo tutta questa serie di cappelli Non può mancare lo scaldacollo per il cane Perché mi ricorda uno scettro sto cane C'ha il collo tutto stretto E poi c'ha la sfera alla fine dello scettro E la sua testa E ti Basta Basta Io adesso mi alzo e me ne vado Chi ha avuto l'idea di ste scarpe? Chi è che ha anche detto Sì Brevettiamo queste scarpe merluzzo Io ho sbagliato tutto Non avrei dovuto farla youtuber Avrei dovuto inventare delle scarpe così Sì le scarpe branzino Questo è il futuro dell'umanità Non youtube Questa invece è una bellissima invenzione Questa è la carta stagnola Il cappello carta stagnola Per tutte le serate in discoteca Questo è perfetto Cioè se tu vuoi approcciare una persona Carina Che ti piace Questo cappello in discoteca Funziona assicurato È un aspirapolvere Ed è bellissimo È la cosa più trash che abbiamo mai visto Sembra Sinta dell'era glaciale Con sti occhiali Ma cosa è successo? C'è scritto veramente qua sotto Sembra Sinta dell'era glaciale Aiuto Ma perché? Ma perché? Non sto credendo ai miei occhi Non riesco a credere a quello che vedo C'è veramente qualcuno Che comprerebbe gli orecchini Con la testa di bambola È la cosa più creepy Che abbiamo visto in vita mia Dire che sono brutti è anche un complimento Cioè questa è proprio È terrificante sta roba Vorrei approfondire con voi queste invenzioni Il copridito Che non è un guanto È proprio un copridito Non ha senso sta cosa Cosa mi dovrebbe servire il copridito? Non so neanche come commentarlo questo E poi non solo Te ne mandano tipo 20 No Ti arriva proprio la scatola con 100 Copridito Ok 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 ci siamo Sì ma questi non li ho mai Vabbè Allora Qua sotto c'è scritto Che spesso e volentieri Vengono usati nei ristoranti Per coprire le dita Che sono state o tagliate o bruciate C'è anche pepe Salutate tutti i peperino Amore mio Amore mio bellissimo Questa la voglio La collana col chicken nuggets Questa sì Io voglio arrivare all'altare con questa collana Sta collana fritta nell'unto Il chicken nuggets Questa è una cosa che mi rappresenta Questa è una cosa che mi rappresenta E poi se ancora non siete pieni con questo trash degli orecchini Abbiamo la versione tulipano Così potete girare con questi giardini che vi colano dalle orecchie Io dico sì Noi ci siamo Io li voglio indossare Poi abbiamo queste bellissime ciabattine Che queste sono proprio di estate a Rimini Perché queste le potresti proprio vedere Anzi più che a Rimini direi Torre Pedrera Proprio quei posti dispersi Dove ci sono solo le persone ultraottantenni Abbiamo queste bellissime peppe Che sono proprio delle belle peppe Belle Belle Con questo quadrato sotto al piede Mi piace E quando proprio pensavate di aver visto tutto Quello che c'era da vedere Nella vita No Abbiamo anche il tagliabanane Cioè Boh E addirittura la persona Che l'ha comprato Tale Missy Stoledo Scrive che questo tagliabanana Ha salvato il suo matrimonio Meno male che nella mia vita è arrivato il tagliabanana Perché senza Sarei divorziata Dice che addirittura questa è l'invenzione migliore di tutti i tempi Spesso discuteva con suo marito Su chi Dovesse tagliare la banana Io adesso non so le vere discussioni nel 2023 Nelle famiglie quali siano Ma non pensavo che tra queste ci fosse proprio Chi deve tagliare la banana Qua invece attenzione abbiamo un genio Questo dovrebbe meritare proprio l'Oscar Della genialità Questa persona ha comprato una busta di orsetti Arribo da 2 kg 5 libri sono circa 2 kg E scrive nel commento Non le comprate A meno che non sia un regalo per una persona che odiate tanto E voi direte Ma cos'è che c'era nelle Arribo? Qua scrive Eh ma c'era tanto zucchero nelle Arribo? Io le ho mangiate Erano buonissime Tant'è che darei 5 stelle E scrive Ma poi è finita malissimo Ha avuto una scarica nel gabinetto Di tutte queste carabelle che ha mangiato E metto una stella Ma cosa ti aspetti? Sono piede di coloranti Di zucchero Di questo Di quell'altro Non ti puoi mangiare 2 kg di Arribo E aspettarti che non accada nulla E dice che ha avuto mal di pancia Che ha vomitato Che ha c***o per tutto Aiuto Ma poi ha fatto un monologo Cioè una descrizione di quello che ha c***o Cioè Addirittura qua dopo l'invenzione del taglia banana Abbiamo Attenzione Tenetevi stretti proprio L'UFO detector E ho già detto tutto Che è questo Oggetto Di plastica Che ha dentro Delle cose Che si illuminano Rosse Insomma Un oggetto così prezioso Che riesce A trovare gli alieni Nel cielo C'è addirittura qualcuno Che l'ha comprato Anche con questa texture Bisogna dire Insomma Tutto molto credibile Questa persona l'ha comprata E scrive Una stella è anche troppo Per questo prodotto Ragazzi Ho un segreto da dirvi Cioè Da piccola Quando andavo su ebay Vedevo che la gente vendeva I pezzi della luna A 80-90 euro E io dicevo Posso comprare la luna su ebay A 80 euro Cioè Proprio un pezzo della luna Quindi ho pensato Che la persona Fosse andata sulla luna A prendere i sassolini E poi Per rivenderli su ebay A 80 euro E sono andata a papà A dire Papà ti prego Potresti comprarmi Un pezzo della luna E sai cosa Lui mi ha smontato Dicendomi Queste sono persone Che raccolgono sassolini Nel loro sentiero di casa E li vendono su ebay Quindi adesso Io vi dico Perché Una persona Dovrebbe credere Che questo oggetto Di plastica Sporco Dovrebbe pure Trovare Gli alieni Che vengono sulla terra Addirittura Dice per 24 ore Su 24 Barra 7 giorni Alla settimana Cioè quindi Non c'è mai No stop Questo continua A cercarti gli alieni Con tutta l'innocenza Del mondo Costui scrive Non so se Mi abbiano scammato O se il mio fosse rotto Però non funziona Com'è possibile Non me lo aspettavo Beh ragazzi Che dire Direi che oggi Ne abbiamo avute abbastanza Di tutte queste nuove invenzioni Sono colpita Sono molto colpita Però questo potrebbe essere Il potenziale inizio Di una serie Dove leggiamo Le recensioni più brutte Mai viste Sulla faccia della terra Spero ovviamente Che questo video Vi sia piaciuto Da Carli Da Cimia E da Affe E tutti noi ci vediamo Prossimamente Con un altro video Ciao